eccoci ragazzi oggi esercizi in stazione retta per gli addominali bracci in alto le gambe leggermente semipiegate addome glute stretti per stabilizzare le anche il nostro bacino andiamo a flettere lateralmente il busto velocemente a destra sinistra per contrarre appunto gli addominali soprattutto obliqui altro esercizio a braccia avanti rotazione a destra sinistra stringiamo l'addome gambe ferme bacino ancorato benissimo e poi braccia fuori traslazione laterale a destra sinistra le anche sempre ferme e il busto si sposta lateralmente grazie movimento salute alla push up ciao